Cari amici del Dome, buon mercoledì mattina a tutti quanti voi. Accade oggi 26 aprile 1978. Muore a Roma all'età di 71 anni Mario Castellani. Dal 1940 lui è ufficialmente la spalla del principe della lisata, ovvero Totò. Mario Castellani, attore a mio modo di vedere sottovalutato, si parla poco di questo grandissimo personaggio, a mio modesto parere uno degli attori migliori degli anni 40, 50, 60.